Ciao, lui è Alberto, produttore di vino e pittore, e vi parlerà di arte e di vino. Bentornati sul canale di Alberto. Siamo con il terzo quadro sul tema del pensare e continuiamo con la raffigurazione di un personaggio che pensa. Sembra immerso in dell'acqua. A me piace vederla come sabbie mobili, perché ogni tanto quando noi pensiamo ci ingarbugliamo in cose che non sappiamo nemmeno spiegare ed è quindi un po' una sorta di intrappolamento. Alberto ha deciso di presentarlo così, insieme a questa linea tutta ondulata che rappresenta appunto il pensiero. Al prossimo episodio